salve eccoci alla presentazione di un percorso di un suggerimento per la preparazione al maxi concorso addetti uffici del processo un concorso per 3946 unità uno dei più grandi pubblicati in questo periodo andiamo a vedere allora alcuni elementi relativi a un corso e un testo manuale per la preparazione ma anche informazioni che possono esservi utili se decidete di prepararvi autonomamente vediamo allora di che cosa si tratta intanto il bando è pubblicato la scadenza il 26 aprile 2024 per presentare le domande quindi chi è interessato il suggerimento è di affrettarsi la procedura è sulla piattaforma in pia e prevede due punteggi un punteggio legato ai titoli quindi i titoli relativi ai la laurea ai corsi di formazione e ad altre attività che sono ovviamente proprie di ciascuno mi raccomando indicateli correttamente perché questi possono dare un punteggio massimo di 15 punti che sono un terzo del punteggio complessivo che si può ottenere nella prova non sono valutati titoli che non sono completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione quindi non è possibile l'integrazione successiva è possibile il soccorso istruttorio in caso di carenze ma attenzione molta attenzione alla valutazione dei titoli ricordatevi ci saranno qualche centinaio di migliaia di istanze che verranno presentate quindi è fondamentale che siano compilate in modo corretto il punteggio ovviamente che dipende dalla vostra prova è quello della prova scritta unica prova scritta prova scritta che consiste in 40 quesiti a risposta multipla in 60 minuti come sapete chi mi segue chissà frequenta le mie dirette noi ci esercitiamo addirittura ritmi più veloci 30 secondi a domanda qui abbiamo un minuto e mezzo a domanda questo non significa che siano facili difficili perché è una competizione significa che occorre esercitarsi in maniera tale da andare rapidamente su quelli su cui si è tra virgolette abbastanza sicuri e dedicare anche due tre quattro minuti su quelli più complessi perché alla fine un errore può far slittare di migliaia di posti ricordiamoci è una competizione a fronte di 200 mila partecipanti una domanda in più una domanda in meno può determinare essere dentro o essere fuori questo significa appunto non soltanto esercitarsi sui quiz non fate l'errore di fare una preparazione esclusivamente buttandovi sulle banche date di quiz ci si prepara sulle materie di concorso che adesso vedremo e poi sulle tecniche di quiz e poi sui quiz il tempo c'è ancora per l'iscrizione anche per la preparazione quindi l'importante è la cadenza nella preparazione la gradatoria finale è la somma ovviamente di questi due punteggi minimo 21 si può non avere titoli e comunque si deve passare con 21 trentesimi massimo ovviamente 45 punti scadenza 26 aprile le domande su inpa.gov.it non esistono alternative alle 23 e 59 del 26 aprile sconsiglio di arrivare proprio l'ultimo giorno perché le problematiche informatiche sono dietro l'angolo ricorda dietro l'angolo ricordando le migliaia di persone che si iscrivono si sono già iscritte o si scriveranno prossimamente la prova scritta abbiamo detto unica consiste in 40 quesiti a risposta multipla in 60 minuti con un punteggio massimo di 30 punti questo significa che ogni risposta esatta è 0,75 in più ogni risposta sbagliata è meno 0,375 la metà di 0,75 ogni mancata risposta è 0 punti non state a domandare ma saranno quattro opzioni tre opzioni non importa chi mi segue sa che se mi preparo bene io arrivo sempre al quiz che mi dà due possibili opzioni sia usando il tecnicale sia usando la preparazione che ho se è così cioè se la mia preparazione è buona se non è buona il problema non si pone non riuscirò a passare ma se la mia preparazione è buona io arriverò appunto ad avere sempre due opzioni fra cui rispondere cosa significa questo che e ve lo do come consiglio forte corroborato dal fatto che con oltre 40.000 studenti poi ho conferma che il suggerimento è andato a buon fine si vince soltanto se si risponde a tutte le domande non fate valutazioni del tipo se però sbaglio mi tolgono punteggio meglio prendere 0 punti perché rischiate di arrivare fuori rischiate di essere fuori ripeto dal punto di vista matematico squisitamente matematico e statistico se arrivate a due opzioni e tirate a caso quindi anche senza saperle tirate una volta la prima una volta la seconda completamente a caso la statistica mi dice che una la indovino e una la sbaglio se una la indovino e una la sbaglio io avrò più 0,375 punti perché quella esatta mi dà 0,75 quella sbagliata mi dà meno 0,375 se le due opzioni su cui sono dubbio su cui sono dubbioso non le do io ho 0 punti quindi prendo di meno non c'è storia è squisita matematica le materie abbiamo visto sono tre attenzione però a non farvi trarre in inganno perché diritto pubblico è tutto la nozione diritto pubblico è una nozione enorme allargata quindi non è una materia semplice è una materia che comprende costituzionale amministrativo pubblico impiego appalti sì anche gli appalti sì tutto tutto ordinamento giudiziario non è soltanto l'organizzazione dell'ordinamento giudiziario è anche un po civile anche un po penale è anche un po entrare nel dettaglio ripeto è una competizione vincerà non chissà la 241 del 90 o le nozioni elementari sull'annullabilità e l'annullità dell'atto amministrativo queste è ovvio su queste tutti risponderanno bene altrimenti uno non si presenta nemmeno ma si vincerà sui dettagli infine la materia di inglese ovviamente che fa parte delle materie c'è informatica c'è anche informatica perché l'informatica fa parte del diritto pubblico fra l'altro fa parte dell'ordinamento giudiziario con oggi con la dematerializzazione quindi studiate anche informatica ripeto non fate l'errore di pensare che sia un esame e quindi studio il minimo indispensabile per arrivare alla sufficienza non serve a niente la sufficienza qui si vincerà probabilmente con 26 27 punti su 30 poi dipende dai titoli ma 26 27 punti mi danno diciamo quel range quell'obiettivo per il quale potrei essere dentro allora andiamo a vedere come prepararsi io vi consiglio tre strumenti tutti insieme non alternativi un corso di preparazione adesso ve lo illustrerò un manuale di preparazione questo è un gruppo telegram perché la preparazione importante il manuale importante ma tenersi in contatto con gli altri studenti con il sottoscritto per approfondire per esercitarsi sui quiz il gruppo telegram è gratuito potete già iniziare a iscrivervi anche se deciderete di non prendere il corso e di non prendere il manuale il gruppo telegram comunque è un gruppo pubblico aperto lo trovate nei commenti sul social e quindi questi sono i tre strumenti il manuale edizioni simone concorso per ufficio per il processo 2024 uscito in tempi rapidissimi già disponibile vi faccio vedere materialmente ringrazio anzi l'edizione simone di avermi fatto dono di questo documento che abbiamo già analizzato nel corso del tg il corso omnia 09 meno 04 dedicato all'ufficio per il processo e il gruppo telegram gruppo telegram che si trova questo indirizzo t meno me t punto me slash ufficio processo 2024 lo troverete nel link per un accesso più rapido vediamo allora il manuale manuale come detto uscito settimana scorsa quindi edizione 2024 sono 800 pagine che comprendono tutte e tre le materie attenzione teoria e quiz commentati quindi il valore aggiunto del manuale è che mi trovo la possibilità di studiare la parte teorica da fare per prima e poi i quiz non li fate troppo presto i quiz non vi buttate sui quiz come vedete è aggiornato al decreto legislativo 28 marzo 2024 quindi freschissimo il corso ugualmente il corso è di ufficio del processo lo trovate su omnia 09 04 contiene corsi già pre-registrati contiene anche gli aggiornamenti e adesso vediamo il contenuto del pacchetto omnia 09 04 contiene il corso di diritto costituzionale e comunitario ripetiamo diritto pubblico e formato da diritto costituzionale e diritto amministrativo nelle sue varie sfaccettature quindi un corso fatto di circa 13 lezioni più extra ed aggiornamenti diritto costituzionale diritto comunitario il corso principale fondamentale sul diritto amministrativo procedimento 241 semplificazione simulazione di prove organizzazione giurisprudenza un corso trasversale diritto penale civile contabile diritto processuale 10 lezioni che spiegano iniziano a introdurre al tema dell'ordinamento giudiziario quindi dell'aspetto processuale del diritto con alcuni focus e approfondimenti elementi di procedura civile la competenza l'azione le procedure i soggetti ringrazio l'avvocato chiara teodori per realizzazione di questo di questa lezione la lezione sugli atti della procedura penale esempi e tecniche di redazione l'ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria disciplina dell'ordinamento penitenziario attenzione è una sola lezione fatela anche se un po defilata rispetto all'ordinamento giudiziario ma fa parte dell'ordinamento giudiziario anche l'ordinamento penitenziario e abbiamo tre corsi di inglese un corso beginner quindi per chi inizia per chi dalle medie o dalle superiori non ha più ripreso in mano i manuali di inglese e diciamo si ritiene non preparato ma anche chi è preparato e vuole ripassare un corso intermedio quello fondamentale probabilmente il livello che sarà richiesto sarà un livello intermedio e un livello avanzato che ovviamente vi consiglio di fare diciamo in vicinanza delle proprie ringrazio luca livotti per la realizzazione di questi corsi abbiamo poi il corso di informatica vi ricordo l'informatica giuridica ma anche l'informatica di base è fondamentale per la preparazione alessandro parrinello ha realizzato questo corso poi abbiamo anche nel pacchetto le esercitazioni 500 quiz commentati che non servono soltanto a conoscere la materia ma servono anche a conoscere le tecniche di approccio ai quiz sono quelle che mi consentono di arrivare alle due opzioni ripeto la conoscenza della materia mi consente di conoscere quella giusta fra le due opzioni ma le tecniche pure mi consentono di arrivare a due opzioni su quattro o due opzioni su tre che già mi danno un grande vantaggio anche nell'ipotesi in cui dovessi andare ad intuito o a caso in più il pacchetto comprende la possibilità di personalizzare il corso perché perché potete scegliere fra il catalogo dove ce ne sono a decine un corso omaggio che può essere diritto penale diritto civile la normativa sul pubblico impiego a vostra libera scelta avete tempo sei mesi quindi potete anche farlo più avanti la scelta quando avete visto quali sono le materie su cui pensate di essere più deboli allora mandate un'email e scegliete il corso omaggio e potete fare anche quello quindi un percorso completo con la personalizzazione per andare a coprire diciamo le possibili lacune che potreste incontrare inoltre ripeto ci sono gli aggiornamenti quindi chi prende il corso sa che avrà nel code 999 che il corso diciamo ha legato al pacchetto completo tutti gli aggiornamenti normativi che ci sono da qui al momento in cui farete le prove in più c'è un gruppo telegram dedicato a tutti quelli che si preparano per i concorsi nei ministeri come questo ministero della giustizia che è ulteriore rispetto al corso per chi si prepara all'ufficio per il processo perché magari non è il solo concorso che fate ne fate altri quindi anche questo è un gruppo che può esservi utile per scambiare opinioni materiali consigli con i partecipanti ovviamente se avete già dei corsi o volete approfondire soltanto alcune materie potete acquistare i corsi separatamente quindi se ritenete che le lezioni di ordinamento giudiziario vi mancano prendete quelle se volete solo costituzionale soltanto quello ovviamente il pacchetto completo dà dei vantaggi di risparmio di costi e di omogenità di trattazione ma altrettanto importante è il manuale il manuale perché perché mi consente di poterlo leggere anche senza essere collegato in rete come avviene per i videocorsi perché mi consente di sentire le stesse cose in un modo diverso questo è fondamentale dal punto di vista didattico qualunque scelta facciate che sia un manuale wikipedia o altro materiale andate a leggere a cercare anche altri contenuti che spieghiano le stesse cose ma detto in un modo diverso il cervello le memorizza in maniera più efficace io consiglio questo testo l'ho visionato l'ho analizzato contiene quindi sia la parte teorica che la parte quiz e contiene tutte e tre le materie diritto pubblico ordinamento giudiziario inglese diritto pubblico in tutte le sue componenti quindi a partire dall'ordinamento giuridico lo stato le forme di stato e di governo la comunità internazionale le fonti del diritto eccetera 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 vi ho fatto una selezione dell'indice che trovate anche sul sito dell'edizione simone i diritti e doveri dei cittadini quindi la parte proprio di costituzionale poi abbiamo la parte dell'ordinamento giudiziario quindi circa un terzo un po più di un terzo è diritto pubblico poi un po più di un terzo è ordinamento giudiziario vedete la pagina 353 abbiamo la funzione giurisdizionale le garanzie costituzionali l'organizzazione di uffici giudiziari gli uffici della procura della repubblica il sistema della magistratura l'accesso tirocinio la formazione la carriera dei magistrati tutte norme ricordo modificate con il recente decreto legge quindi decreto legislativo quindi è una parte già aggiornatissima alla normativa attuale trasferimenti magistratura ordinaria l'ufficio per il processo quello dove andrete a lavorare una volta vinto il concorso la mediazione e infine l'ultima parte è la parte di inglese poi ovviamente seguono le esercitazioni da svolgere vi ricordo gruppo telegram se vi collegate è gratuito questo a prescindere potete non prendere il corso non prendere il manuale fare da voi ma andate sul gruppo telegram perché è gratuito e vi consente comunque di avere maggiori dettagli magari rispetto alle cose che ho appena detto ricordo il link per il corso di formazione che è questo formazione punto omnia.com slash bundles slash omnia 0 9 meno 0 4 io vi ringrazio per l'attenzione vi saluto e ci vediamo ai corsi di formazione arrivederci a presto ciao 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 Grazie.